buonasera a tutti eccoci di nuovo un nostro webinar e twin in toscana vi saluto sono simona bernabèi e con noi questa sera ci sono le colleghe analisa di pierro luizella mori e madina marino che sono ambasciatrice twin in parla toscana questa sera ci occupiamo di scuola secondaria di secondo grado probabilmente alcuni di voi hanno seguito i nostri il nostro programma di webinar che è partito all'inizio della dell'emergenza e quindi della chiusura delle scuole per lo meno in toscana che per lo meno in toscana è stata all'inizio di marzo e abbiamo deciso con tutto il gruppo di lavoro e training per la toscana coordinato dalla dottoressa daniela cecchi che è la nostra referente istituzionale presso usr e da me che sono referente pedagogico regionale appunto abbiamo con tutto il gruppo deciso di lanciare un programma di seminario online che andassero a diciamo integrare e sostituire per il momento tutti gli eventi online gli eventi in presenza che ovviamente per evidenti motivi non abbiamo potuto svolgere noi abbiamo già in passato negli anni precedenti utilizzato la modalità del seminario a distanza tenendoci molto proprio perché questa è una modalità che consente con grande flessibilità e facilità di raggiungere gli utenti e raggiungere anche con una modalità più pratica dal punto di vista proprio degli utenti e quindi anche non solo di essere presenti al momento dell'emissione dell'erogazione del webinar ma in un secondo tempo come voi sapete ci stiamo occupando in questo in questa fase primaverile del dell'utilizzo di training per la didattica a distanza e noi ci siamo mossi con due progetti per quello che riguarda la didattica a distanza uno più strettamente legato alla classe e alla didattica che si chiama e tu in toscana a distanza e un altro che invece è più legato agli aspetti di che riguardano diciamo gli aspetti di comunicazione gli aspetti legati più all'esperienza di di noi come docenti ma soprattutto come come persone degli studenti come stessi come persone attraverso questo questo periodo così particolare strano e difficile che stiamo vivendo che si chiama a quarantine diary che è invece mentre il primo è un progetto a carattere nazionale il secondo un progetto a carattere internazionale che appunto vede scuole scusate colleghi docenti e non di altre nazioni sia della piattaforma sia del programma twinning dell'azione twinning che anche azioni esterni alla all'azione twinning se qualcuno fosse interessato a iscriversi all'uno all'altro a partecipare all'uno all'altro progetto ci contatti anche per avere ulteriori informazioni o per ci trovate nei nostri nei nostri profili twinning e trovate il progetto potete trovare chi sono i fondatori e rivolgervi a noi per informazioni prima di passare la parola alle nostre relatrici di oggi vi ricordo che ho messo un foglio per le presenze che adesso nuovamente il qui link adesso nuovamente metterò lo vedete nella chat e prima di iniziare appunto vi ricordo anche di riservare le domande per la fine della chiacchierata delle nostre amiche in modo tale che possiamo anche darvi il microfono se volete o possiamo interagire con voi verso la fine così almeno diamo modo alle nostre relatrici di fare la loro presentazione partirei da Annalisa Di Pierro che è una, sono tutte e tre le relatrici, sono docenti di lingua civiltà straniera Annalisa Di Pierro è una docente che insegna a Pisa all'istituto Leonardo da Vinci Fascetti e insegna appunto lingua civiltà inglese e è una ambasciatrice e twinning come anche le altre colleghe ed è una grande appassionata ed esperta di realtà aumentate, di aspetti tecnologici, di tecnologie e strumenti 2.0, 3.0 insomma è una grande appassionata di questo mondo ed è una tra le più attive animatrici del gruppo che ricordo il gruppo nazionale che e-tweening, l'agenzia nazionale e-tweening in dire ha creato per far fronte a tutte le questioni legate alla didattica a distanza che si chiama SOS, didattica a distanza Annalisa è assieme ad altri colleghi una delle animatrici se si può dire in senso proprio pedagogico e anche gestione di eventi hanno un calendario molto ricco di eventi e di webinar che tra l'altro in due di questi hanno visto anche i nostri progetti come ospiti quindi ancora grazie, passerei la parola ad Annalisa e credo che Annalisa tu puoi lanciare la tua presentazione e poi per qualsiasi cosa io seguirò la chat quindi potete scrivere le vostre riflessioni in chat o se avete domande vi chiederei la cortesia di lasciarle per la fine così che possiamo dare un senso a raccoglierle tutte insieme grazie mille, Annalisa a te grazie a tutti allora io non sento Annalisa nel frattempo proviamo magari a dare un minuto ad Annalisa per vedere se è per caso un problema tecnico o se ancora magari non si è preso il microfono era io che avevo dimenticato di accendere il microfono scusate solo un secondo, capita succede, succede e volevo soltanto dire alle nostre amiche e amici di fare attenzione quando firmano e mettono i loro dati nel foglio firme perché il foglio firme è un foglio collaborativo e quindi rischiamo di sovrascrivere quello che hanno scritto i colleghi prima di noi quindi fate attenzione a utilizzare le caselle perché già ho notato che c'è qualcuno che sta sovrascrivendo qualcosa va bene, scusa Annalisa ti do senz'altro la parola no scusatemi voi dicevo sì grazie Simona per la presentazione ed è vero sono molto appassionata di strumenti digitali, di nuove metodologie e di realtà aumentata e realtà virtuale strategie che è possibile adoperare sia durante le lezioni in presenza e soprattutto ora durante la didattica a distanza allora di che cosa si tratta? Attivando queste strategie è possibile ampliare la conoscenza degli argomenti che si affrontano con i ragazzi dilatando quindi la nostra realtà sono due cose diverse la realtà aumentata e quella virtuale perché appunto nella realtà aumentata lo studente modifica la propria realtà mentre nei mondi virtuali, tramite i mondi virtuali è possibile invece immergersi in una realtà diversa quindi in questa maniera gli studenti diventano degli avatar quindi assumono un'altra forma che scelgono loro e superano così ostacoli di qualunque genere per cui i mondi virtuali sono molto inclusivi quali sono gli obiettivi? quindi appunto innanzitutto l'apprendimento delle materie, delle discipline che si affrontano la memorizzazione quindi il ricordare, ripetere le nozioni la motivazione perché i ragazzi sono molto più motivati a entrare in questi mondi virtuali o ad operare la realtà aumentata per imparare sono molto inclusivi come vi dicevo prima c'è una grande collaborazione, una grande cooperazione fra gli studenti che hanno maggiori capacità e abilità che aiutano invece gli studenti che hanno delle difficoltà e poi possono dare spogo diciamo alla propria creatività allora vi mostrerò alcune ambientazioni quindi abbiamo detto che la didattica immersiva viene usata per costruire il sapere tramite l'uso di PRIM i PRIM sono praticamente il nucleo della costruzione nel mondo virtuale mondo virtuale io vi mostrerò oggi Edmondo che è un mondo creato da indire e quindi è un mondo protetto per gli studenti possono entrare solamente docenti e studenti non è come Second Life dove si può incontrare chiunque da tutto il mondo Edmondo è dedicato solamente ai docenti e ai studenti italiani quindi gli studenti costruiscono degli oggetti partendo da questi PRIM e si immergono così nella conoscenza queste sono due immagini una che mostra la ricostruzione di Mestre e l'altra la ricostruzione del Tempio di Sedinunte quel Tempio di Sedinunte è stato ricostruito è stato creato da due scuole una di Torino e una siciliana una scuola di superiore secondaria e superiore di geometri e l'altra una scuola d'arte che hanno unito le proprie competenze e hanno ricostruito questi mondi mentre Mestre è stata realizzata da una scuola secondaria di primo grado di Venezia dal momento che la docente aveva bisogno di voleva far lavorare i suoi studenti sulla conoscenza di Mestre dal momento che nella scuola c'erano moltissimi nei suoi classi c'erano moltissimi immigrati e voleva quindi trasmettere loro un po' di storia della città qui invece vi parlo appunto della realtà aumentata che appunto permette agli studenti quindi di interagire con lo spazio che li circonda ci sono delle immagini che si riferiscono la prima sinistra si riferisce a Metaverse questo programma che si chiama Metaverse quella centrale è un QR code una sorta di QR code per cui è possibile entrare inquadrando scaricando l'app nel cellulare inquadrando questo QR code i ragazzi vedranno realizzati davanti ai propri occhi delle informazioni che la docente vuole trasmettere e l'immagine invece a destra si riferisce ad Assemble che è un programma appunto di realtà aumentata in cui si materializzano davanti ai propri occhi le ambientazioni che appunto i docenti realizzano al computer e poi sono è possibile vedere fruire attraverso le app scaricate nel proprio cellulare quindi questo è realtà aumentata quali sono i risultati quindi gli studenti riflettono sulle conoscenze e rispettano quindi rispettando una gradualità dell'apprendimento perché ovviamente le informazioni vengono fornite graduatamente le competenze diciamo che si possono acquisire sono moltissime tra le soft skills quelle più importanti che io perlomeno ritengo più importanti sono appunto quelle in cui gli studenti aiutano gli altri che hanno più necessità imparano a rispettare i bisogni dei loro compagni durante il lavoro imparano ad avere un metodo di lavoro perché bisogna essere molto organizzati e quindi affrontano diversi problemi che imparano a risolvere partecipano attivamente all'apprendimento perché devono creare degli esercizi delle attività e creano quindi degli scenari di apprendimento queste immagini si riferiscono a due regioni in cui io lavoro con gli studenti l'immagine di destra si riferisce proprio a un'aula che io ho creato non ho voluto ricreare chiaramente la solita aula che i ragazzi visitano ogni giorno perlomeno visitavano ogni giorno in classe ma un'aula diciamo più rilassata con uno schermo dove io proietto delle slide che si riferiscono agli argomenti che vogliamo memorizzare esercitare e imparare ecco ancora qui gli studenti sull'immagine di sinistra provano dei vestiti per cui scelgono il loro avatar e nell'immagine di destra invece costruiscono degli oggetti in questo caso molto spontaneamente loro hanno deciso che ora vogliono costruire una piccola città insomma case macchine cose varie forse perché non potendo uscire sentono la necessità di costruire una città è possibile studiare tutte le discipline per esempio scienze matematica queste immagini si riferiscono a sinistra una docente di scienze che voleva introdurre ai propri studenti il ciclo dell'acqua mentre a destra siamo in un planetario per cui il docente insegnava ai suoi studenti il il sistema il sistema del solare qui invece ci troviamo in due ambienti a sinistra una regione gestita da un docente di informatica per cui lui insegna informatica in questa maniera e a destra invece una regione di una docente che insegna matematica il docente di informatica della scuola superiore e la docente di matematica della scuola secondaria di primo grado qui invece è un docente di musica sulla sinistra tiene le sue lezioni sulla musica e sulla destra invece vedete una lezione di storia medievale castello e ambientazioni tutto questo viene costruito sia dai docenti che dagli studenti magari i docenti cominciano e poi gli studenti continuano il lavoro qui ci sono delle immagini con alcuni esempi di attività che faccio fare io nella mia regione per esempio abbiamo sulla sinistra un un pannello con un dado e i ragazzi muovendo il dado devono fare questo questo gioco indovinando il i verbi frasali in inglese cioè mettendo in relazione facendo un match tra le immagini e i verbi frasali in inglese mentre sulla sinistra scusate sulla destra invece vedete l'immagine di una serie di pannelli che sono legati fra loro che mi sono serviti per fare un ripasso dei tempi in inglese che avevamo studiato fino a quando andavamo a scuola insomma qui invece i ragazzi possono giocare sempre con questi pannelli pannello per le preposizioni e pannello per individuare i complementi gli aggettivi di quantità in inglese è possibile conversare con questo pannello i ragazzi leggono delle frasi su qualunque argomento ecologia politica qualunque cosa e danno la loro opinione ascoltano è possibile anche ascoltare in inglese alcune frasi alcune frasi famose celebri che sono state dette su quegli argomenti da personaggi famosi qui è possibile svolgere attività di role play abbiamo io installato qui due ristoranti per cui i ragazzi possono sedersi ordinare pagare insomma fare questa attività di role play qui invece l'attività di role play la possono svolgere in una casa e qui in una banca qui vedete sulla destra un labirinto è stato creato un labirinto e i ragazzi per aprire le porte e trovare l'uscita la via d'uscita devono risolvere devono rispondere a delle domande in questo caso questo labirinto si riferisce ai comparativi e superlativi in inglese sull'immagine di sinistra invece mi riposo dopo aver creato tutte queste questi ambienti e qui invece vi mostro un escape room che ho costruito in craft che è un altro un altro mondo virtuale sempre per docenti e studenti italiani e questo escape room l'ho costruita insieme con un'altra collega di trieste molto interessante molto piacevole però qui ancora ragazzi non sono entrati per cui insomma è stata visitata solo da altri colleghi da altri docenti ma non ancora dagli studenti ecco per me è tutto se avete delle domande io ti ringrazio intanto e pensavo di lasciare le domande in fondo perché magari così abbiamo più tempo e siamo più libere per insomma aprire anche una una conversazione se qualcuno vuole intervenire se voi siete d'accordo io farei così così almeno siamo lasciamo proprio uno spazio in fondo che dite io vedo che c'è credo già Luisella che sta lanciando la sua presentazione allora eh sì allora facciamo così va che così è forse più è più pratico allora ehm Luisella che vedo si sta anche attivando sta anche attivando la webcam credo eh Luisella Mori è un'altra innanzitutto è un anche lei ambasciatrice twinning per la Toscana ed è ehm docente di lingua e cultura eh inglese all'ITGC contrario ITCG Fermi di Pontedera è ehm un'ambasciatrice twinning eh che si occupa eh lavora moltissimo eh come gli altri ambasciatori sui twinning ed è eh una io ho conosciuto Luisella eh di fama la sua fama la precedeva tanti anni fa ehm in relazione ad Erasmus quindi ovviamente al programma LLP prima e poi al programma Erasmus Luisella è una progettista è una valutatrice anche una valutatrice Erasmus ehm ultimamente eh ci ha diciamo ha insieme a un un gruppo di noi ci ha guidati attraverso il il mondo del CLIL in un progetto molto divertente che si chiamava Team for CLIL ed è un progetto che ha visto coinvolto OSR come scuola capofila e è una serie di scuole eh diverse eh toscane ehm diversa nel senso di ordine e grado diverso e appunto eh se tu sei pronta ti lascerei la parola e ti ringrazio anche te come analisa della tua presenza niente mi sentite sì ti sentiamo benissimo grazie sì sì ti sentiamo benissimo va bene buongiorno a tutti grazie Simona eh sì eh dunque io eh oggi vi faccio un po' vedere alcune cose che sto facendo per la didattica a distanza sia sui twinning sia con google classroom e altri strumenti ma soprattutto con l'idea di pensare un po' a questo monitoraggio di cui diciamo e anche della valutazione di questi percorsi eh in questo progetto di cui vi ha già parlato anche Simona appunto i twinning toscano a distanza ci siamo ritrovati fin da subito dopo la chiusura delle scuole delle scuole e io ho trasferito lì alcune delle attività che stavo già facendo con alcune classi ora in questo caso ad esempio vi faccio vedere in piccola parte eh alcune attività che ho fatto con la classe quinta eh turismo eh sul turismo e lo sviluppo sostenibile innanzitutto eh ora spero che vado avanti se no esco dalla presentazione e vado ecco vado così ehm ah no scusate scusate un attimo ecco ehm allora eh eh all'interno del Twin Space eh ho riproposto appunto questo argomento in particolare abbiamo lavorato eh su i viaggi in treno che sono insomma da sempre un mezzo di trasporto sostenibile integrando all'interno del Twin Space un Padlet ogni ragazzo ha iniziato cercando eh un esempio di un treno panoramico eh che poteva essere interessante da presentare al resto della classe dopodiché eh dopo quindi di aver fatto questa specie di brainstorming eh utilizzando il Padlet quello con la forma di mappa del mondo io ho dato le mie istruzioni eh lasciando loro anche abbastanza libertà sugli strumenti da utilizzare anche a me piacciono molto gli strumenti digitali perché secondo me abbinano l'apprendimento della disciplina che noi stiamo insegnando che può essere la lingua ma può essere anche tutt'altra cosa può essere la matematica le scienze con un sacco di altre competenze ovvero i cosiddetti soft skills e le competenze digitali ma anche di collaborazione di comunicazione che oggigiorno sono importantissime quindi eh ho dato delle istruzioni che secondo me sono piuttosto chiare perché ho elencato diciamo le parti che dovevano essere inserite in questa presentazione in questa brochure però al tempo stesso dando loro la libertà di scegliere lo strumento che volevano che potevano essere le slide potevano essere canva poteva essere un video e al tempo stesso dicendo loro fin da subito come avrei valutato i loro lavori quindi condividendo con loro una una rubrica valutativa che era piuttosto dettagliata e che diciamo abbiamo visto insieme qui vi faccio vedere i vari punti che erano inseriti in questa rubrica che prevedevano una valutazione non solo dell'aspetto linguistico ma anche dell'aspetto visivo di tale presentazione quindi una valutazione non solo dell'inglese ma anche ad esempio del font usato del contrasto di colori e quindi anche lì un lavoro di consapevolezza inclusivo perché fa capire che se io uso un certo font facilito la comprensione ai compagni dislessici o al pubblico dislessico se utilizzo un contrasto di un certo tipo facilito la visione delle slide allo stesso tempo la ricerca delle immagini non può essere solo determinata da quanto le immagini siano belle ma anche da una consapevolezza sul diritto d'autore quindi io devo anche saper dire se quelle immagini le posso usare oppure no e così via e anche il rispetto delle scadenze questo secondo me rende il lavoro sia a distanza sia in presenza molto tranquillo cioè io sinceramente conflitti con gli studenti o con i genitori non ne ho praticamente mai perché penso che se si riesce a monitorare il lavoro dando istruzioni chiare spiegando cosa si vuole dando una certa libertà in modo che la creatività degli studenti venga anche stimolata è difficile che poi qualcuno anche che prende un voto non particolarmente bello si possa lamentare poi all'interno del TwinSpace loro stessi utilizzando il TwinBoard possono caricare le loro presentazioni i loro lavori qui vedete l'esempio di alcuni itinerari in treno ma se si cari se si danno altri tipi di di lavori da fare ad esempio una videoricetta una presentazione video di un di un monumento di Pisa di un luogo di interesse si possono caricare i video direttamente da YouTube ma al tempo stesso rispettando il discorso della privacy perché il video caricato dallo studente su YouTube può essere caricato anche in modo privato cioè privato in modo che solo chi ha il link possa vedere il video e a sua volta la pagina del Twin Space può rispettare questi criteri perché se voglio la posso rendere visibile solo ai membri del Twin Space quindi mi permette di lavorare con degli strumenti anche avanzati anche molto personali molto creativi e però di proteggere la privacy dei minori un altro strumento che ho utilizzato molto in questo periodo ma anche con i partner Erasmus è la parte del forum nel Twin Space in molti progetti non viene quasi usato il forum e invece è molto molto interessante perché permette ai membri del Twin Space di parlare tra loro di discutere di rispondere a quello che hanno scritto gli altri anche la parte del forum non è visibile da esterno quindi anche se io do il link del Twin Space o lo metto sul sito della scuola chi entra da ospite non potrà vedere cosa c'è scritto nel forum però l'insegnante lo può utilizzare per monitorare il lavoro dei ragazzi anche per vedere quantitativamente quanto stanno in questo forum e quanto scrivono e quanto interagiscono sia tra compagni italiani ma anche se ha un progetto i Twinning con scuole estere permette di vedere anche quanto si stanno scambiando idee e messaggi vi faccio un esempio di questo screenshot preso da un da un Twin Space che abbiamo aperto ad ottobre novembre di quest'anno scolastico e già per Natale c'erano oltre 300 messaggi di adolescenti non solo della nostra scuola ma anche di una scuola spagnola e di una scuola tedesca ovviamente in questo caso gli argomenti erano a musica a scuola vestiti quindi i ragazzi molto più volentieri magari rispondono rispetto ad altre cose allo stesso tempo però si possono usare questi strumenti o anche altri per fare anche cioè per farli lavorare anche con 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 argomenti più innovativi più attuali e qui vi faccio un esempio io insegno non turistico e questa emergenza del coronavirus ha stravolto il mondo del turismo quindi come faccio io a continuare a usare il libro sì lo posso anche usare ma sarebbe assurdo sarebbe ormai obsoleto quindi in questi giorni stiamo lavorando facendo un brainstorming su cosa farà il turismo su cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi e qui ho usato un altro un'altra lavagna virtuale che si chiama Jamboard e che fa parte degli strumenti di Google quindi le scuole che hanno la Google Suite lo possono tranquillamente utilizzare ed è integrabile con il TwinSpace ma anche durante una videoconferenza che si può fare ad esempio con Google Meet i ragazzi in tempo reale possono mettere il loro post-it e scrivere le loro idee e anche qui è un lavoro estremamente inclusivo perché lo studente magari più bravo che sa meglio l'inglese scriverà cose più complesse ma in questa classe c'è anche una studentessa con un lieve ritardo e con DSA però da questo Jamboard non si vede cioè non si vede questa differenza perché è uno strumento che anche per lei è più facile da utilizzare è anche meno stressante meno ansiogeno quindi anche per questo come diceva già Anna Lisa anche per questo gli strumenti digitali ci danno una grande tranquillità e una maggiore inclusività oltre ai twinning io in questo periodo ho utilizzato moltissimo anche la Google Classroom perché anche la Google Classroom ogni giorno che passa aggiunge altre opzioni altre possibilità e che quindi la rendono molto interessante dal punto di vista didattico ad esempio i compiti si possono già da un po' a dire il vero proporre come questions come domande e se io faccio una domanda in questo caso ad esempio proprio perché ormai trovo i libri di turismo molto indietro è chiaro quando un libro di turismo viene stampato ormai nel frattempo nel mondo del turismo siamo minimo due o tre anni avanti li ho fatti lavorare facendo loro confrontare un sito fatto benissimo quello della città di Helsinki che è anche una parte favolosa in cui gli abitanti di Helsinki si offrono di fare gratuitamente da guida o di dare informazioni sulla città che si chiama My Helsinki e che è stata presentata proprio quest'anno alla borsa del turismo online a Firenze come esempio di buona pratica nel turismo online nella promozione online del turismo e un altro sito che si chiama Discover Toscani in più ho messo qualche altra domanda in questo caso quando il compito è proposto come domanda come question i ragazzi quando rispondono alla loro domanda quindi non subito ma dopo che hanno risposto vedono anche le risposte degli altri compagni quindi anche in questo caso diventa può diventare una specie di forum in cui chi ha risposto io qui vi faccio un esempio di una risposta di una studentessa alla fine della sua risposta compare questo bottone rispondere quindi altri compagni che hanno già risposto però perlomeno alla prima domanda possono partecipare un altro strumento che sto usando molto sempre su Google Classroom è il compito integrato con i moduli di Google in questo caso ho preso un articolo pubblicato recentissimamente sulla BBC Travel quindi è un articolo del 26 marzo 2020 quindi recentissimo che parla del modo in cui l'Italia ha reagito al coronavirus e in questo caso l'ho collegato quindi ho messo l'articolo della BBC e ci ho messo varie domande all'interno di un modulo di Google e alcune di queste domande erano anche domande che volevano diciamo valorizzare le competenze di ricerca di informazione online dei ragazzi ad esempio la prima domanda una delle domande era cosa ne pensi delle opinioni di questo articolo perché si tratta di un articolo che presenta la reazione italiana al coronavirus dal punto di vista diciamo della cultura italiana in modo molto positivo cercate altri articoli sulla stampa internazionale che magari presentano un altro punto di vista e quindi in questo modo non solo si attiva l'inglese ovviamente essendo una classe quinta sono anche in grado di leggere articoli non riadattati ma direttamente sui quotidiani online ma al tempo stesso devono essere anche in grado di trovarli questi articoli quindi di di selezionare le fonti più interessanti online e quindi a questo punto io chiudo dicendo mi è piaciuto mettere insieme queste due piramidi la cosiddetta piramide dell'apprendimento che ci fa capire perché questa strada che stiamo intraprendendo è la strada giusta anche come diceva Gianna, Lisa e come dirà Marina ovviamente se io leggessi e basta mi ricorderei il 10% se leggo e ascolto il 20% se lo vedo anche il 30% se lo ascolto e lo vedo il 50% quindi questo ci dà una grande tranquillità sull'uso di questi strumenti multimediali ma ovviamente se io ne parlo con gli altri quindi se uso un forum se sono in un mondo virtuale mi ricorderò il 70% se ne farò una esperienza personale o se addirittura lo dovrò presentare agli altri perché spesso quando gli studenti fanno questi itinerari ad esempio poi li presentano al resto della classe è molto più facile che l'apprendimento sia profondo e l'ho abbinata diciamo a questa versione arrovesciata della tassonomia di Bloom in cui la parte alta è quella delle high order thinking skills quindi di quello che noi risvegliamo negli studenti quando facciamo questo tipo di attività quindi il pensiero critico la capacità di cercare informazioni e valutarne l'attendibilità la capacità di creare di costruire qualcosa di inventare di presentare sono sicuramente capacità molto più elevate rispetto a un semplice ricordare o imparare a memoria eccetera io con questo ho chiuso vi ringrazio dell'attenzione e passerei la parola di nuovo a Simona e poi a Marina grazie mille Luisella io aggiungo che queste modalità effettivamente che sono state descritte da Luisella sono poi diciamo assolutamente importanti e fondamentali per una qualsiasi futura attività che sia professionale che sia accademica o entrambe le cose che i ragazzi si troveranno ad affrontare come sicuramente dovranno trovarsi ad affrontare quindi il fatto di imparare facendo a scuola questo tipo di presentazioni ma anche lavorando sulla competenza del public speaking ma anche imparando ad esprimere le proprie opinioni a difendere un progetto che loro hanno immaginato su cui loro hanno raccolto dati esattamente ciò che si diceva poco fa secondo me rende insomma credo che sia condivisibile anche che renda i ragazzi molto più forti dal punto di vista proprio dell'attrezzatura di cui hanno bisogno per il prosieguo del loro percorso che non sarà un percorso scolastico ma sarà tutt'altro ma insomma importantissimo oltre che creativo e utile dal punto di vista dell'apprendimento grazie quindi a Luisella io passerei la parola passo senz'altro la parola a Marina Marino che è la nostra terza relatrice di stasera Marina è anche lei un'ambasciatrice per la Toscana e insegna lingua e cultura francese all'iscia statale Francesco Cecioni di Livorno è una esperta di Esabac al momento si trova in prima linea in un progetto Erasmus K1 dedicato appunto all'Esabac che si chiama Esabac Puclohop ed è Marina coordinatrice della formazione della disseminazione che si sta facendo con i twinning questo è una cosa molto interessante già diciamo nel progetto Twin4Clil si era utilizzato la piattaforma i twinning per la formazione diciamo per la formazione a distanza come momento di scambi di buone pratiche ma anche di formazione proprio metodologica sul CLIL in questo progetto si sta facendo si sta portando avanti la formazione di tutti i docenti Esabac che aderiscono che hanno aderito a questo progetto attraverso la piattaforma i twinning perché effettivamente i twinning è uno strumento che può essere utilizzato davvero in mille modi e non ultimo anzi forse in questo momento di distanza forzata ma anche io penso in futuro sarà uno strumento vincente per la formazione anche dei docenti e non solo per la didattica con gli studenti Marina se credo che Marina so che Marina aveva dei dei problemi con internet io non so se è riuscita a risolverli Marina tu ci sei mi senti ah no sta arrivando scusatemi ho letto il pc e il whatsapp mi stava dicendo mi dice che ha dei problemi che sta cercando di risolvere io nel frattempo avrei se Annalisa e Luisella me lo concedono avrei qualche domanda per loro oppure poi possiamo anche intanto dare uno spazio ai nostri amici che sono con noi volevo chiedere vorrei chiedere ad Annalisa innanzitutto come come riesce a gestire perché questo lavoro che lei fa con le classi è un lavoro molto molto articolato molto articolato e evidentemente con una che necessita una grande preparazione o comunque un lavoro a monte che diciamo è un lavoro ulteriore rispetto alla preparazione proprio della lezione quindi del contenuto la preparazione più strettamente didattica e d'accordo e con i ragazzi lei come ti organizzi tu con i ragazzi cioè come li fai entrare dentro questi software dedichi uno spazio particolare come proprio operativamente come ti riesci ad organizzare visto che poi insomma noi non è che abbiamo un monte ore spropositato settimanale per cui come riesci a tirar fuori lo spazio per farli entrare dentro in questi strumenti che immagino loro adorino perché insomma posso immaginare sì e allora ovviamente io ho seguito un corso e mi aggiorno continuamente ci sono corsi base avanzati per costruire per lavorare in questi mondi anche perché poi quando si entra in questa tipologia di lavoro poi non si finisce mai perché si vuole sempre imparare qualcosa in più qualcosa di nuovo quindi ho imparato anche a modellare in 3D con alcuni programmi che si chiamano per esempio Blender e altre oppure creare dei personaggi come quelli che avete visto nelle immagini che sono dei personaggi che si creano con Make Human insomma prima mi sono formata io ovviamente e poi ho in classe io utilizzo il laboratorio un'ora alla settimana chiaramente questo lavoro è inserito nella mia programmazione porto i ragazzi nel laboratorio nel laboratorio tutti i computer del laboratorio hanno questo programma che si chiama Firestorm che permette di entrare in questi mondi virtuali e quindi i ragazzi lavorano con me in classe un'ora alla settimana e ora siccome già il lavoro era iniziato prima chiaramente quando facevamo lezione di presenza ora loro si sono scaricati Firestorm nel loro computer e quindi lavoriamo a distanza ci incontriamo una volta alla settimana tra l'altro siccome noi durante queste lezioni di didattica a distanza io non faccio l'orario completo delle mie lezioni faccio due ore su tre proprio per non appesantire gli studenti loro mi hanno chiesto quindi di fare una terza ora quell'ora che io avevo eliminato diciamo di di parla di incontrarci e quindi ci incontriamo sia su Meet che su Edmondo e i ragazzi insomma in questa maniera lavorano partecipano sono molto contenti sono molto creativi è chiaro che devo all'inizio ho trascorso un po' di lezioni per insegnargli proprio le basi ma poi loro imparano subito perché quasi tutti i ragazzi conoscono Minecraft per esempio e quindi come si costruisce con Minecraft è molto simile a tutti questi programmi di costruzione di modellazione hanno delle regole comuni e quindi i ragazzi insomma non hanno difficoltà a imparare per quanto riguarda la realtà aumentata lo stesso io la usavo in classe e quindi i ragazzi sono abituati a lavorare con queste app sul loro telefono e quindi è anche facile lavorare ora a distanza non è cambiato granché per quanto mi riguarda più o meno le metodologie sono le stesse per chi volesse per chi fosse interessato ho letto proprio stamattina che si sta aprendo una nuova sezione di lezioni per lavorare in questi mondi tramite una comunità di docenti che lavorano volontariamente ovviamente tutto lavoro volontario in questo mondo che si chiama craft l'immagine che vi ho fatto vedere per ultima se ci fosse tempo possiamo anche entrare nei mondi ve lo faccio vedere dal vivo diciamo e quindi ci sono questi docenti che cominciano questo corso ed è molto semplice basta essere docenti italiani vi posso scrivere il codice di una classroom a cui si accede e si seguono eccomi eccomi sì un attimo marina che sta finendo sta finendo un attimo una lisa un attimo solo poi se c'è qualcuno interessato potresti vedere il codice della classroom nella chat benissimo sì tra l'altro infatti mentre parlavi ti volevo proprio chiedere un consiglio per i nostri amici che sono online con noi perché gli argomenti diciamo il tema è molto molto stimolante creativo per cui sicuramente ricordiamoci di dare queste coordinate in fondo io poi lascio io avevo anche una domanda per Luisella ma direi che approfittiamo del fatto che Marina è di nuovo online e quindi ti do senz'altro la parola Marina per la tua presentazione io ti ho presentato nel frattempo ho spiegato qual è il tuo ruolo all'interno di dei progetti del progetto Esabac che stai di cui sei parte il progetto Esabac Purlo Hop e e quindi forse tu non hai sentito ma insomma a un certo punto io parlavo vedevo che tu non reagivi ho detto oddio è caduta è caduta è caduta la rete ora ci sei mi senti bene? Sì e anzi mi scusate perché sono quelle cose che ti fanno impazzire cioè succedono sempre quando quando non devono succedere non solo è andata via la connessione mi si è anche spento il computer quindi mi dispiace molto scusate succede non ti preoccupare non ti preoccupare fino a un certo punto quello che ha detto Luisella ho seguito Annalisa e mi inserisco brevemente per dire che in effetti con il Twin Space si può veramente fare didattica a distanza non so ecco se ripeto qualcosa dite me lo mi dispiace come gruppo e Twinning Toscana abbiamo effettivamente da subito preso l'iniziativa di riunirci e trovare strategie e fare un progetto insieme il primo è stato in Toscana a distanza il secondo me ne ha parlato Simona e l'idea che si possa fare è sicuramente certa perché si può fare ne ho già parlato l'idea di lavorare a distanza utilizzando gli strumenti della didattica a distanza sono sicuramente vecchi non è non è da Alberto Manzi che noi dobbiamo cioè abbiamo già visto tante volte tante cose quello che è importante sottolineare è che noi che lavoriamo con i Twinning in pratica non abbiamo cambiato modalità non abbiamo cambiato didattica e quando sentivo parlare Luisella analisa cioè loro hanno hanno dato per scontato ecco una cosa importante che per noi effettivamente così è naturale è che lavoriamo sempre in un modo diverso quando usando uno strumento quando usando un altro strumento perché e Twinning ci ha permesso di integrare effettivamente come pratica didattica la tecnologia la scheda di valutazione di analisa il mondo virtuale scusate di Luisella il mondo virtuale di analisa tutto questo dà la possibilità di lavorare in un altro modo di semplificare concetti astrati complessi e di creare credo che sia importante dirlo di creare una una consapevolezza nell'uso degli strumenti da parte dei nostri alunni che anche se non se ne accorgono escono diversi da ragazzi che utilizzano saltuariamente le tecnologie quindi questo è un primo vantaggio il secondo per noi anche si tratta di non perdersi più in tante come dice questa vignetta nella pandemia dei docenti rispetto a la marea di strumenti di cose bellissime ma che poi dobbiamo essere in grado di rivettere in un ordine logico perché sennò tutto questo rischia veramente di essere una pandemia di 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 input che alla fine distolgono non solo noi ma soprattutto i nostri alunni quindi dobbiamo e questo è il twin space ce lo permette dobbiamo mettere in ordine le nostre cose dando un senso logico un'organizzazione logica alle nostre attività i vantaggi se usati in questo senso che diciamo mette in una cornice la didattica di apprendimento ma anche proprio fisica a livello tecnologico gli strumenti l'uso del video l'uso nel mio caso ora parleremo di questo permette di porre domande prima dopo di lavorare in tempi diversi da quello del sincrono come tutti gli strumenti che abbiamo visto strumenti volevo sottolineare il fatto che abbiamo tutte presentato strumenti che appunto hanno la caratteristica di essere dentro un twin space di poter essere inseriti in un twin space ma non perché sono strumenti speciali perché nel twin space in effetti possiamo inserire quello che ci serve e nella distribuzione delle pagine non oso ora ho preparato il movimento del twin space ma non mi muovo per paura di perdere nuovamente la connessione il twin space organizzato in pagina ci permette anche una documentazione sia del nostro lavoro cioè poi sarà facile anche per in maniera molto semplicistica di fare una ricavarne il programma fatto e confrontarlo con la programmazione ma addirittura ci permette di fare una un si direbbe in francese un'osservazione continua del lavoro dei ragazzi e anche una autovalutazione loro che possono confrontare come ha fatto vedere prima Annalisa scusate di nuovo Luisella ci sono dei post molti post i ragazzi hanno il loro nome il nome permette la tracciabilità anche da parte dell'allungono stesso che si può autovalutare rispetto ai progressi fatti durante il percorso scolastico uno strumento è Edpuzzle credo che molti di voi lo conoscano ve ne parlo velocemente per dirvi che lo lo utilizzo e lo consiglio perché permette di utilizzare video che sono sia video autoprodotti ma anche video che si trovano su youtube su pimeo e in altre piattaforme di tagliarne la porzione che interessa attenzione questo per quante volte vogliamo quindi possiamo proporre anche un video di pochissimi minuti e lavorare solo su quelli aggiungere una voce sopra il video all'intero video o una porzione di video e interessante è che non solo questo serve per esempio a sottotitolare ma sarebbe l'uso più banale ma serve a spiegare serve a lasciare anche un suggerimento per esempio attenzione tra poco vedrete questa cosa in questa cosa troverete questo elemento su questo vi concentrate perché dopo faremo una domanda infatti il puzzle permette di proporre dei quiz di diverse tipologie noi decidiamo il punto preciso in cui inserire la domanda che può essere aperta oppure a scelta multipla oppure vero o falso e somministrare il video agli studenti si può integrare nella classroom e verificarne le risposte vedrete su youtube c'è un bellissimo tutorial che ho lasciato qui nei documenti ma l'accesso è molto semplice perché ci si può accedere come vedete sia come insegnanti che come alunni ovviamente il percorso sarà diverso la visuale dell'alunno vedrà il nostro lavoro e la proposta del nostro lavoro per cimentarsi nella costruzione delle video lezioni non occorre una grande bravura diciamo tecnica e questo lo dico non a chi è qui perché qui stiamo parlando di un ambiente cleaning ma potrebbe essere proprio diffuso a livello di consiglio di classe da qualcuno di voi perché si può utilizzare questo strumento in tanti modi basta caricare il video tagliarlo seguendo le istruzioni una volta terminata la lezione chiaramente noi possiamo dare il video assegnare il video e in automatico lo file puzzle scegliendo il momento scegliendo la classe o le classi e questo che è anche importante possiamo obbligare gli alunni a non poter consegnare l'elaborato le domande quello che sarà senza prima averlo visto tutto perché si vede lo vedremo tra un minuto il tempo che il ragazzo ha trascorso possiamo dire quindi il video si blocca se non si vede tutto non si può andare avanti alla fine noi possiamo analizzare i risultati che nel caso le domande a scelta multipla o vero o falso si correggono subito da sé per le domande aperte le vedremo sotto le domande già corrette non ci vuole molto perché saranno facilmente identificabili si sta diffondendo si sta adeguando all'uso della quarantena di puzzle e quindi ci sono le app e quindi l'app per android e ne sono altre in arrivo quindi è uno strumento molto versatile si può utilizzare direttamente con chrome e volevo farvi vedere una cosa eccola questo è un esempio molto sintetico fatto con meno male che l'ho fatto perché ho paura di muovermi sul Treespace nel dal 5 marzo subito l'istinto mi ha portato a lavorare nel Treespace con i ragazzi e ho continuato semplicemente mettendo lì i lavori che abbiamo già iniziato a fare per esempio stavo lavorando sul teatro con una classe di letteratura di Ezebach questo è un video che io ho già trovato e l'ho adattato alle mie risorse come vedete è stato messo su Classroom vedete che ci sono i tempi di visione dei ragazzi chi l'ha visto chi non l'ha visto come escono i risultati i risultati escono già in un foglio di Excel e sono pronti per l'analisi ecco qui abbiamo la pagina di cui vi parlavo prima questo è il nostro progetto Twinink Toscana a distanza non mi sentite? credevo che fosse un mio dunque abbiamo il io ti sento un po' a scarti con un po' di ritardo non so infatti mi stavo stavo scrivendo a Luisella per vedere se fosse un mio problema o un problema dall'altro se volete interrompo no no ma scherzi assolutamente mi dite per cortesia mi date un feedback se sentite ok si sente a scarti dice Alessandra e me invece mi sentite bene prova credo che sia un problema di rete non di microfono Marina perché purtroppo è andata così questa connessione è così ora eh sì certo è certo perché ora mi sono connessa con l'off spot del telefono ti sentiamo bene vai non c'era questa connessione non c'era la rete di password mi dispiace Marina dicevo semplicemente concludo questa bellosissima presentazione mi dispiace queste sono le cose che la rete ci dobbiamo io credo che io personalmente sto imparando anche questo sto imparando la pazienza sto imparando che quando con questo tipo di didattica le cose vanno così bisogna accettarlo e parlo del lavoro con i ragazzi essere altrettanto comprensivi essere capaci di rifare le cose due o tre volte c'è tutta una ginnostica mentale che questa quarantena ci porta a fare per quello che riguarda l'uso effettivo della didattica a distanza quotidiana dicevo semplicemente che qui avete l'esempio di come dividere per classe e il suggerimento è usiamo il Twin Space e usiamolo anche nei consigli di classe perché potrebbe essere l'uso recapitolativo delle varie classroom dei vari strumenti perché poi in realtà tutto rimane ancora una volta diviso il grande pregio del Twin Space è proprio questa organizzazione questa razionalità che per se stesso dà al lavoro quindi concludo dicendo che ritengo la didattica a distanza una missione molto possibile con la pazienza ovviamente ma tenendo presente che i Twinning è già una soluzione cioè io insisto su questo perché abbiamo visto cose stupende serviamo tutti tanti webinar interessantissimi le case editrici ci propongono noi abbiamo uno strumento che da tempo c'è che è molto sicuro che ci permette di integrare tutte le cose che vogliamo integrare al nostro ritmo Marina grazie tante poi adesso anche per te sicuramente dopo questo momento di stress che se ne voglia dire però comunque quando si spegne il pc e hai la presentazione da fare dopo un minuto non è mai piacevole quindi grazie doppiamente per no ma di ma figura di figura di la morte comunque torno a dire è importante volevo aggiungo questo questo che succede succede e succederà se continuiamo questa modalità il problema della didattica a distanza è proprio quello di non riproporre anche mentalmente lo schema della didattica frontale nella didattica frontale noi controlliamo tutto il docente è il capo nella classe ha un suo luogo la cattedra che in genere controlla la porta vede la finestra vede tutti i ragazzi qui noi siamo molto più umili e dobbiamo anche in questo senso riproporre una didattica più uso la parola interpares ma è quella che penso noi siamo coach e in una partita in un allenamento grazie Marina davvero io concordo al 100% tant'è che mi ero anche appuntata a una domanda da fare a Luisella e nel frattempo vedo le osservazioni dell'amica Manuela poi anche di questo parliamo un attimo perché giustamente tu dici ci vorrebbe un percorso specifico per entrare dentro l'offerta proprio dal punto di vista delle piattaforme eccetera e intanto vorrei chiedere a Luisella dicevo proprio in merito alla didattica a distanza proprio perché effettivamente diciamo che chi di noi si è trovato ovviamente chi di noi internati docenti si è trovato dall'oggi al domani lanciato catapultato all'interno così in questa situazione di emergenza didattica che poi è un'emergenza nell'emergenza perché insomma lo stato d'animo la disponibilità psicologica anche di tutti noi certamente è massima ma va tenuto conto anche della situazione della cornice che è molto particolare ma diciamo al di là della situazione particolare e dell'emergenza drammatica io trovo che questa questa situazione di forzata di dover lavorare a distanza stia facendo venire alla luce tutta una serie di dinamiche interessanti anche di riflessioni di brainstorming di così confronti fra di noi ma anche all'interno delle famiglie delle famiglie dell'atteggiamento sta mutando secondo me anche l'atteggiamento che le famiglie hanno fin qui immaturato nei confronti della scuola ma sicuramente secondo me un punto di partenza è che come si è detto ampiamente in modo anche indiretto la didattica a distanza è altra cosa che fare la lezione che faremo lo diceva anche adesso Marina faremo con i nostri studenti faccia a faccia con i nostri studenti semplicemente mediati da un monitor quindi io vorrei proprio chiedere a Luisella che tipo di consiglio può darci un docente che fa didattica a distanza con i twinning fa didattica a distanza in vari modi in altri momenti perché le cose di cui stiamo parlando abbiano un senso anche in futuro perché io penso che non si potrà più tornare indietro da questa modalità e si potrebbe anche immaginare di utilizzarla non dico in sostituzione ma integrazione o comunque per momenti diversi si potrebbe utilizzare la didattica a distanza quali sono un po' le diciamo il consiglio che tu ti senti di darci proprio dal punto di vista dell'approccio alla didattica a distanza come come sistema più che come emergenza coronavirus diciamo così da momento coronavirus ma senti io lo vedo un po' come un approccio diciamo blended nel senso adesso ovviamente non possiamo andare a scuola in nessun modo e quindi è tutto a distanza però anche in questo tutto a distanza perché le cose non siano pesanti e anche perché le attività siano stimolanti creative eccetera credo che la didattica a distanza debba essere comunque un po' sotto forma di MOOC cioè questi open online courses che ormai da anni diciamo vanno abbastanza di moda quindi io preferirei integrare cioè preferisco e consiglierei di integrare sia delle attività diciamo in tempo reale quindi qualche videochiamata qualche videoconferenza che poi se necessario si può fare anche a piccoli gruppi ad esempio con la mia classe prima non li vedo mai tutti insieme su Google Meet ma ho fatto dei gruppetti in questo modo aumenta lo student talking time e magari ecco per me può essere un po' più noioso ripetere lo stesso incontro di quattro volte se ho diviso la classe in quattro gruppi ad esempio però per loro fare anche mezz'ora in cui sono solo in 5 o 6 o massimo 7 rispetto a fare un'ora un'ora e mezzo in 27 è sicuramente più interessante più propositivo dal punto di vista della lingua al tempo stesso alternare con attività che loro si ritrovano spiegate sul Twin Space o su Google Classroom quindi una parte di incontri online in tempo reale una parte di attività data sulla classe virtuale sul Twin Space sempre con grande anticipo io consiglio di dare le attività molto in anticipo nel senso non metto mai un'attività da fare oggi per domani anche perché i ragazzi non è detto che ognuno nella loro famiglia abbia un computer o un tablet individuale ma a volte ci sono ragazzi che hanno i genitori che anche loro lavorano al computer e quindi hanno bisogno anche di tempo per potersi organizzare quindi di solito quando metto un'attività da fare che non sia banale ovviamente do almeno una settimana cioè la metto la settimana prima e penso che anche quando rientreremo se rientreremo sicuramente sarà in modo diverso voglio sperare che anche tutti quelli che fino ad adesso non facevano nessun tipo di didattica digitale si saranno resi conto di quanto sia importante farla anche perché come dicevi te stessa Simona poi nel mondo del lavoro tutti dovranno saper usare questi strumenti saper collaborare online saper vedere se una notizia è vera o no saper verificare una fonte eccetera quindi io spero che tutti quei docenti che non lo facevano continueranno a integrare la didattica online con quella in presenza e quindi anche in questo caso consiglierei di continuare a utilizzare queste classi virtuali queste piattaforme per organizzare il lavoro per renderlo trasparente dando subito istruzioni chiare dando i criteri di valutazione in modo esplicito dando scadenze lunghe e mai oggi per domani in modo da rendere la classe mista blended e anche inclusiva al massimo perché c'è anche chi ce la fa a fare un lavoro da oggi per domani ma c'è chi ha bisogno di più tempo io tra l'altro ti ringrazio molto perché io condivido le tue riflessioni e tra l'altro in particolare una cosa mi è molto cara che è il discorso della collaborazione online e collegato a questo del comportamento online che è un un hot topic con l'H maiuscola e l'AT maiuscola nel senso che non credo che possano esistere altri luoghi migliori della scuola per imparare a capire come si gestisce la propria presenza online e parlo di comportamenti di discorsi di odio comportamenti di ogni tipo insomma che quotidianamente riempono all'inverosimile le pagine dei social media quindi trovo che questo in modo l'utilizzo della modalità blended chiaramente una delle nostre amiche dice non penso che sarà possibile immaginare di poter sostituire la didattica in presenza ed è chiaro che diciamo che questa è un'ipotesi che nessuno nemmeno vorrebbe immaginare perché diciamo che poi l'aspetto di interazione ha una valenza importantissima ma il discorso di poter mixare di fare proprio come diceva Luisella dei percorsi blended in cui si possa immaginare per esempio anche di avere degli esperti che fanno delle lezioni degli incontri dei webinar su tematiche specifiche o la possibilità di utilizzare la modalità online per far fare delle presentazioni ai ragazzi presentazioni di loro lavori e per esempio l'utilizzo di tutti questi strumenti come per esempio l'utilizzo del forum posso dirvi per esperienza diretta ma credo che tutti noi abbiamo che abbiamo avuto a che fare con un twist space o con altri con altri siti che prevedano la presenza di un forum che il forum è uno strumento che non automaticamente si sa utilizzare e anche dall'utilizzo del forum si vede un po' la capacità di gestire la propria presenza su un sito internet o in un progetto cioè la capacità di interagire con l'altro di non essere strabocchevoli né non partecipare mai di sapere in che modo interagire attraverso il linguaggio perché il linguaggio e quindi il messaggio scritto ha una valenza del tutto diversa dal linguaggio dal messaggio dato così verbalmente quindi insomma sono tutte cose che servono a costruire l'identità digitale anche di cittadini di questi ragazzi perciò credo che sia fondamentale non esclusiva ma fondamentale spero davvero mi unisco a Luisella nel dire che spero davvero che non torneremo indietro e che anche i nostri colleghi più renitenti capiscano che non si tratta soltanto di utilizzare strumenti ma di utilizzare gli strumenti mettendoci dei contenuti di un certo tipo dunque l'amica che prima parlava noi abbiamo una decina di minuti ancora ci diceva Manuela molto interessante ci vorrebbe un corso specifico in cui fossimo guidati passo passo nell'uso di tutte queste nuove piattaforme sono così tante che francamente mi sento un po' persa questo è un po' il sentimento che si condivide quando ci si muove in tante direzioni il trucco forse ammesso che esista un trucco vediamo adesso Lisella sta scrivendo qualcosa vediamo cosa ci dirà lei ma credo sia quello di mettere a fuoco il proprio obiettivo il proprio focus e cercare di trovare uno strumento che sia adeguato al mio obiettivo perché io personalmente credo che utilizzare 3.000 strumenti diversi sia dispersivo sia per noi che per gli studenti questo è un po' quello che è successo all'inizio della didattica a distanza in cui forse ancora la cosa succede e continua chi dava i compiti da una parte chi metteva le lezioni dall'altra chi metteva video lezioni o addirittura delirio voleva caricare dei film su su Google Drive andando contro almeno un migliaio di leggi sul copyright e proprio anche leggi della logica che impediscono di caricare dei file di diversi giga su un disco condiviso e si lavorava tutti in mille direzioni la cosa più difficile credo che sia lavorare su una piattaforma arrivare a lavorare su una che offra vari strumenti l'altro giorno se ne parlava con Laura Maffei che è un'altra nostra ambasciatrice e Laura ci parlava dell'integrazione di Google Classroom con i Twinning quindi cercare uno o al massimo due strumenti che conosciamo quindi cominciare a farci le ossa su questi strumenti uno due e poi integrare questi due strumenti e trovare in questo modo una soluzione diciamo non dico ideale ma molto vicino all'ideale per fare qualcosa di buono ecco questo è il mio consiglio direi non andare in mille direzioni perché è una è un impiego di energie anche mentali davvero davvero incredibile allora analisa nel frattempo sì scusa scusa Luisella se volevi rispondere poi diamo spazio un attimo ad analisa che voleva aggiungere qualcosa sul merito a quello che diceva prima lo sta dicendo in chat ma preferivo che lo dicesse così la la seguiamo tutti dimmi analisa e dimmi scusa Luisella no no dicevo che sono d'accordo che ognuno di noi può scegliere diciamo alcuni strumenti e intanto iniziare certo infatti assolutamente ora dunque per quello che riguarda invece il discorso che analisa ci faceva sui mondi virtuali ci allora manuela chiede quali sono i corsi che potremmo fare per aggiornarci manuela ti chiedo di dirmi soltanto se ti riferisci ai corsi alla formazione al percorso a cui si riferiva analisa o se si se ti riferisci a qualcos'altro perché così non non ti capisco sì vedo che sta scrivendo al percorso di analisa ok perfetto allora analisa il microfono a te se ci vuoi riprendere le anticipazioni che ci davi all'inizio per favore così mi sembrano molto interessanti e niente ci sono questi due mondi quello di Edmondo dell'Indire e quello di Craft che è una comunità di docenti che provengono anche da Indire però poi si sono distaccati hanno creato una comunità a parte e vi ho messo i siti di riferimento comunque li potete cercare su internet uno si chiama Craft l'altro Edmondo potete seguire quello di Craft ci si iscrive in questa Classroom e si seguono poi gli incontri che avvengono una volta a settimana e e quindi si impara un po' alla volta a muoversi in questo mondo bisogna scaricare ovviamente un programma sul proprio computer che si chiama Firestorm e che serve appunto per entrare per vedere questi mondi per muoversi in questi mondi e bisogna scaricare Firestorm per per OpenSIM perché Firestorm si adopera anche per entrare in Second Life per esempio Second Life è un mondo come si dice mondiale dove ci sono si incontrano persone da tutto il mondo non è dedicato solamente ai docenti ok allora io via via che tu scusami sì sì penso che il tempo no volevo dire penso che il tempo sia scaduto altrimenti vi facevo entrare no non è scuduto guarda ci sto dietro io non preoccuparti vai abbiamo un paio di minuti se vuoi far vedere qualcosa molto volentieri anzi ne approfittiamo allora io ho messo i i i i tu procedi analisa io nel frattempo eh rispondo a a Manuela che ci dice invece Edmondo Edmondo ho appena messo il link se sali un attimo nella chat ti rimetto il link qua sotto questo è il link per accedere a Edmondo eh analisa tu puoi eh io sto caricando il mondo quindi un secondo che si carica e condivido poi lo schermo perfetto perfetto grazie allora nel frattempo vedo che Marina ha tenuto le nostre pubbliche pubbliche relazioni in francese grazie mille Marina con l'amica Sonia ci fa molto piacere collaborare con te ovviamente e Sonia sì Sonia scusami Marina sicuramente ti ha ti ha detto come mi pare no certo ti ne fa dire un'etichetta c'è il francese vi siete Marina la nostra amica forse chiedeva istruzioni su come partecipare al progetto sì mi dice Marina ok perfetto Marina tu volevi aggiungere qualcosa nonostante la linea cerchiamo di di essere più forte mentre analisa non ho capito mentre analisa carica può sognare scrivi Marina scusami perché non si sente mentre analisa carica per sognare tu tu chiasi ok ok ditemi se vedete il mio schermo sì sì analisa purtroppo Marina si sente poco io darei di nuovo la parola ad analisa e ti chiederei la cortesia di scrivere per la nostra amica Sonia mentre analisa fa vedere il suo schermo vai analisa allora questa è una mia regione ora ve la faccio vedere dall'alto ogni regione è divisa diciamo in quattro porzioni e io ho questa porzione questo è il labirinto che vi ho fatto vedere prima anzi ci potremmo anche andare nel labirinto scusate se sono vestita in questa maniera ma stavamo facendo un gioco con i ragazzi che mi ero vestita da sommorzatore allora vado a prendere l'ascensore ecco qui si può volare si possono accorciare le distanze volando ci si può teletrasportare da un mondo a un altro ovviamente è tutto in un server allora io adesso mi siedo questo scensore l'ho costruito io è partito ora mi alzo ecco ora per far muovere gli oggetti ci sono degli script all'interno degli oggetti per farli muovere ci sono degli script gli script sono delle stringhe di codice anche qui queste stringhe di codice si imparano oppure ci sono dei siti che le mettono a disposizione oppure fra tutti i docenti che ci sono nella comunità si condividono perché la cosa bella di questi mondi è che i docenti si aiutano veramente moltissimo fra di loro è una cosa bellissima docenti che magari non si conoscono non si incontreranno mai dipende insomma se ci sono dei convegni allora ci incontriamo ma altrimenti è molto difficile e però condividiamo moltissimo sia le difficoltà che oggetti o appunto stringhe di codice eccetera io clicco qui sullo studente quando arriva qui clicca su questa palla gialla e riceve delle istruzioni riuscite a leggere? sì sì queste sono le istruzioni ecco queste sono le istruzioni quindi entra e si trova queste queste domande questi muri se risponde correttamente il muro si si annulla diciamo ora io scrivo nella chat la risposta nella chat di Edmondo ovviamente scrivo la risposta ecco la risposta è la corretta e quindi posso andare avanti e cercare un altro un altro muro quindi un altro ostacolo da superare per trovare la via d'uscita scrivo sempre qui nella chat mi faccio solo vedere ecco e posso andare via ora i ragazzi per uscire da questo labirinto devono per forza risolvere tutte risolvere tutti i muri abbattere tutti i muri scusate altrimenti non c'è una via di uscita di un altro genere e questo è un modo insomma appunto come diceva Luisa nell'ottica blended è un modo di adoperare quindi la la grammatica io insegno inglese quindi la grammatica inglese con il gioco perché è un gioco praticamente devono uscire fuori dalla diritta questo è il gioco i ragazzi quando li facciamo giocare in maniera divertente per loro possono vi faccio vedere il labirinto dall'alto eccolo il labirinto è coperto da una copertura per cui i ragazzi non possono uscire fuori se non risolvono tutte le domande che gli sono state richieste io mi sono riseduta sulla sull'ascensore sono uscita dal labirinto insomma potrei farvi vedere tante cose ma non so non vi voglio annoiare assolutamente godibile per esempio qui assolutamente godibile non noioso tutt'altro hai una domanda Annalisa questa è un'altra attività allora la domanda te la fa Manuela e ti chiede se il labirinto l'hai creato tu o gli studenti no il labirinto l'ho creato io sì sì questo in questo spazio dove ci troviamo le cose le ho create io i ragazzi vengono qui per svolgere gli esercizi poi ho un'altra regione dove invece i ragazzi creano loro ho preferito prima avevo solo questo i ragazzi creavano anche qua poi si faceva confusione tra le cose mie e le loro e allora mi sono fatta dare un'altra regione dall'amministratore di questo Edmondo che si chiama Andrea Benassi e quindi porto i ragazzi a costruire da un'altra parte questa attività che vi faccio vedere qui vedete che ci sono dei cubi dei triangoli una palla un altro triangolo con la bandiera del Regno Unito dove ci sono le istruzioni qui bisogna devono creare delle frasi ci sono sempre le istruzioni quindi tutti i ragazzi possono autonomamente da soli mentre un gruppo fa un esercizio un altro gruppo può fare un altro esercizio e io mi muovo fra i gruppi per aiutarli se hanno delle difficoltà oppure tutti i ragazzi si stanno fermi o solamente uno o due o in coppia o di solito li faccio lavorare sempre in coppia svolgono l'esercizio questo esercizio qui consiste nel creare una frase io ho inserito qui dentro le parti di una frase per esempio il verbo l'avverbio di frequenza il soggetto l'avverbio di tempo e loro cliccando sopra ecco non so se riuscite a vedere cambia per esempio nella scatola nel cubo dei verbi cambiano i verbi e quindi loro a seconda del verbo che appare devono creare la frase lo stesso per per gli avverbi di frequenza e così via e anche per le altre cose questo invece vi faccio vedere una cosa analizza scusa per esempio c'è un'altra domanda perché stiamo andando verso le 18 e 15 quindi volevo scusami non voglio certamente interromperti ma magari ci sarà modo di approfondire anche questa cosa che è davvero interessante sempre Emanuela ci chiede immagino che sia un lavoro abbastanza lungo specie per un principiante quanto tempo ci vuole a creare un laboratorio sì un laboratorio un labirinto del genere una volta che si è imparato quindi per te diciamo per impostare beh la passione la passione non fa contare il tempo il labirinto dipende 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 quanto uno lo vuole fare grande si può fare anche una cosa minima non è detto per forza che uno deve fare grandissimo e poi comunque ci sono tanti trucchi per cui si possono duplicare gli oggetti quindi si fa un piccolo labirinto poi si duplica se ne può fare uno più grande per esempio ma non saprei quantificare perché poi io magari un pomeriggio ci lavoro un'ora il pomeriggio dopo altre due ore un'altra ora non saprei quantificare sicuramente certo ci vuole un po' di tempo come tutte le cose perché anche il puzzle anche altri strumenti altri programmi ci vuole sempre tempo per creare le attività per i ragazzi io per esempio ora devo andare a creare CAUT challenge glielo ho fatto fare oggi ai ragazzi a distanza e si sono divertiti moltissimo cioè l'hanno fatto con il loro tempo glielo ho assegnato da tre giorni prima dopo tre quattro giorni loro lo hanno fatto e mi hanno chiesto se gliene preparo un altro quindi ci vuole tempo sempre ci vuole tempo per queste ma sì sicuramente l'assessore è ciò che diceva anche Luisella il tempo sia nostro che loro anche per entrare nell'attività per farla bene per non farla trascinata via perché poi alla fine abbiano anche tempo di fare delle riflessioni su quello che fanno e fare le cose in modo critico chiedo siccome siamo già le 18.12 chiederei alle persone che sono ancora con noi se hanno voglia di fare qualche altra domanda a Marina o a Luisella o se hanno delle questioni anche insomma per noi come gruppo altrimenti direi che potremmo concludere l'appuntamento di oggi ricordandovi che avremo un nuovo appuntamento dedicato alla disabilità e alla didattica a distanza che manderemo probabilmente i primi di maggio dico probabilmente perché lo registreremo perché l'ultima volta abbiamo avuto grossi problemi di collegamento e quindi abbiamo deciso di registrare l'appuntamento con il dirigente il dirigente Curtolo e il dottore Infante che sono dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana naturalmente ci sarà anche la dottoressa Cecchi insieme a noi ovviamente e questo incontro verrà registrato e lo manderemo lo manderemo poi su Youtube così come tutti i nostri incontri se ci saranno delle domande ci sarà spazio per per raccoglierle troveremo il modo di raccoglierle e di farle avere sia a Curtolo che a che a Pierpaolo Infante ci ringraziate ringraziamo noi voi naturalmente penso che io non ho visto domande particolari non so se mi sia sfuggito qualcosa comunque insomma non è mai una una chiusura definitiva nel senso che noi rimaniamo qui noi siamo qui le nostre colleghe sono qui quindi sì ti dico dove trovare questa registrazione la registrazione verrà caricata come tutte le nostre registrazioni sul canale Youtube Twin in Toscana dove tempo tecnico di non solo di caricamento ma anche di sbovinamento della registrazione li carico entro 3-4 giorni le dovreste trovare lì quindi le trovate tutte su il canale Youtube Twin in Toscana allora io vi chiederei chiedere alle nostre relatrici di accendersi un attimo la web così facciamo un saluto conclusivo ci scusiamo di aver sforato di un quarto d'ora naturalmente grazie a tutte e tre perché nonostante le traversie tecniche e di collegamento internet siamo riusciti ed è stato veramente veramente interessante Daniela Cecchi vi fa i suoi complimenti tramite la chat ho qualche occasione per ringraziare Daniela perché è sempre con noi in tutte le nostre avventure e twinning come gruppo Twin in Toscana saluto quindi Anna Lisa Di Piero naturalmente saluto Luisella Mori e saluto Marina Marino ringraziandole e dando appuntamento a tutte e tre a qualche futuro appuntamento di cui vi informeremo senz'altro sui nostri canali e social quindi su Facebook e su Youtube grazie davvero ciao ciao a tutti ciao grazie a tutti ciao ciao